Un altro incontro con Giovanni Matera, imprenditore, titolare di Matera Arredamenti, esperto di marketing, di formazione e stiamo così analizzando molte espressioni, molti concetti presenti nel suo libro La Cassetta degli Attrezzi, che è un po' l'impalcatura per noi alla base di questi incontri, di queste puntate che stiamo realizzando e passando da capitolo in capitolo, oggi ci occupiamo del vecchio ed il nuovo mondo, una sfida in cui si vince o si perde, il pareggio non è ammesso, ma è come in questo momento la sfida più presente nella nostra vita di uomini e donne, che più di altre influenza la qualità delle nostre esistenze in positivo o in negativo, si concretizza nella capacità di gestire i cambiamenti cui ognuno di noi è continuamente sottoposto Vecchio e nuovo mondo, dunque necessità assoluta di innovarsi, di non restare come dire aggrappati nelle paludi stagnanti del passato Esatto, noi stiamo vivendo una cosa che non è mai successa da quando è stato creato il mondo praticamente, non sto esagerando C'è il fatto che in una stessa generazione, nell'arco di 50-60 anni, siamo partiti che non c'era nemmeno la televisione Stiamo vivendo un'epoca informatica, telematica, proprio che non ci aspettavamo proprio I social sembrano un... E' la mia generazione Sembrano fantascienza Quando io sono nato non c'era nemmeno la televisione, non che non c'era il telecomando Non che doveva andare a spingere il bottone, ma non c'era proprio Oggi invece spinge un bottone qui, succede un'altra cosa in un'altra parte, l'automotica e tutto quello che sappiamo E come vive questa situazione? E' veramente, bisogna fare un applauso, bisogna veramente apprezzare questa generazione Noi stiamo vivendo questo cambiamento Ecco perché non c'è pareggio Siamo stati costretti ad adattarci E ci sta andando pure benino Ahimè ci sono molti di noi che non si sono mai adattati Che ne stanno soffrendo Però altrimenti si sopperiva insomma Il cambiamento totale Mai successo all'interno di una generazione I ragazzi, i nostri figli nascono già col telefonino in mano Nascono già col telecomando Per loro ciò che noi vediamo di strano Per loro è la normalità Però Matera, se per il giovane è facile Perché il giovane magari di oggi nasce con il telefonino Nasce con Facebook Ma la persona della vecchia generazione Che a stento, che non mi ricordo ancora Io ho 47 anni E ricordo quando esisteva ancora il telefono Il duplex e il simplex Ricordo quello che mi dicevano mia mamma e mia zia Relativamente giovane però Nel condominio c'era l'unico telefono Per tutto il condominio Arrivavano le telefonate A questo unico telefono E quindi il portiere chiamava Signora Adelia Veda che c'è una telefonata per lei E accorreva Oggi parliamo di... Quindi immaginate il cambiamento I social, le app Ma il giovane Per il giovane non è una novità La gestisce bene questa situazione Perché ci vive Ma l'anziano Si sente veramente sbarcato sulla luna In effetti dicendo questo Io non sto scoprendo niente di nuovo È sotto gli occhi di tutti Però nessuno ci mette attenzione Al sacrificio Alla fatica Che stiamo facendo La nostra generazione Veramente da fare un applauso A questi ragazzi Io chiamo ragazzi Anche se una certa età E questo veramente Lo volevo sottolineare Insomma Questo passaggio E che c'è Meno male Che in qualche modo Ci stanno aiutando Soprattutto devo dire Io gestisco Da una mano Più che gestire Due UTEP UTEP è Università Territoriale Della terza età Uno sulla terza Oramai siamo al ventesimo anno E un altro ne abbiamo aperto Sul Gino usa Già al terzo anno Beh Io stesso Quando ho capito Che dovevo stare dietro A questa tecnologia Sono andato a farmi Due corsi base Per riprendermi Un pochettino Per adeguarsi E poi visto che dovevo Fare marketing Dovevo fare l'imprenditore Ecco Nella cassetta Delle attrezze Sono andato a mettere Questa nuova Conoscenza Se no Ero veramente La vedevo male La situazione Io le dico Il mio operatore Che sta riprendendo Potrà darmene atto Io Giornalista Tutto Sono nato E vissuto Con l'idea Della carta e penna Una volta c'era Il calamaio Alla mia epoca Alla nostra epoca C'era carta e penna E quindi in me C'era una certa difficoltà Ad aprirmi Al computer A internet Ora invece Devo dire che Mi sono perfettamente Integrato Perché poi O ti adegui O muri O affughi Non c'è Come ho detto prima Non c'è pareggio E come dire Voglio andare a Roma A Roma Io posso andare Con la macchina Con il pullman Con il treno Con l'aereo Ma se io mi ostino A dire Voglio andare Con l'asino Perché io 70 anni fa 80 anni fa Andavo a Roma Con l'asino E sei tagliato fuori No no Abbiamo dovuto Io ho dovuto Inserire nella cassetta D'attrezza a punto Questi nuovi attrezzi Se no Eravamo fuori